buongiorno a tutti centrate tutte le previsioni su smp 500 nasdaq dax mib e bitcoin di ieri andiamo a vedere che cosa è successo sui film perché da un po che non ne parliamo sui film sono successe alcune cose interessanti la prima siamo andati anche in questo caso ad avere una discesa con i dati us di ieri che però è stata completamente rimangiata se andiamo a un grafico a 45 minuti e lo ricentriamo in maniera umana tutti dicevano che il dato avrebbe influito su niente non ha influito su niente nel breve ha creato questo movimento totalmente riassorbito tra ieri e oggi quindi ripetiamolo ancora una volta perché questo canale stra pieno di esempi di questo tipo quanto contano le anal le notizie i dati macro e tutto il resto sui grafici di criptovalute indici e tutto il resto tranne la parte forex nel breve causano dei movimenti ma nel medio periodo non cambia nulla non servono a nulla vengono riassorbiti in men che non si dica ok questo non è un'opinione è un fatto ve l'ho appena fatto vedere che minimo siamo andati a toccare ieri siamo andati a 11.000 pardon siamo andati sono abituato a bitcoin a 1190 e siamo partiti da mille e duecento venti quindi tutto questo quarto mensile se vincolato ribasso quanto dura un mensile mensile può durare minimo 24 barre e noi ne abbiamo fatte solo 22 più una quindi che cosa possiamo aspettarci per un movimento di medio periodo relativamente al ciclo mensile alti più due come si dice in gergo è un ritorno come minimo sotto i 1220 dollari il movimento perfetto sarebbe ritornare a 1190 dollari da qui da questo minimo con candela verde è partito che cosa è partito il terzo settimanale di questo mensile vincolato sia ribasso che ha fatto soltanto una candela quindi facciamo così e la aggiungiamo nel frattempo dobbiamo andare a fare delle considerazioni sull'inverso e sono quelle le considerazioni più importanti a partire da questo massimo fino a questo massimo da questo massimo gli inversi sono i cicli che partono da massimi sviluppano minimi e tornano su massimi a partire da qui quanti giorni sono passati lo potete vedere 62 62 ci colloca in che ciclo un trimestrale un trimestrale rialzista per l'inverso vuol dire che scende bene infatti è sceso bene e noi abbiamo quindi un trimestrale che ci dice che è partito un annuale di inverso bisogna controllare lo swing ma immagino che sia stato già ampiamente violato questa è una cosa che effettivamente devo ricordarmi di fare altra considerazione qui siamo arrivati a 34 barre 34 barre ci colloca all'interno di un mensile inverso che però potrebbe aver chiuso già qui come vedete infatti ho scisso 25 più 9 nel caso che mi attendo in realtà sarà soltanto come già detto 34 infatti no lo lascio per sicurezza 34 come avremo la condizione necessaria e sufficiente per andare a chiudere un mensile inverso e anche un trimestrale inverso eventualmente con che ciclo in realtà sotto ciclo ma questo lo sapete se avete chiesto gli appunti a info chiocciola financialarmor.eu appunti gratuiti su cui studiare vogliamo ripeterlo? per chiudere ogni ciclo ha bisogno di un sotto ciclo di tre gradi inferiori ribassista ribassista vuol dire che sale per l'inverso è il contrario semplicemente il contrario noi ce l'abbiamo in questo momento da questo massimo a 1338 a 1342 ce l'abbiamo proprio in questo momento abbiamo un t-1 fatto da 1,2,3,4,5 giorni che mi chiudono il nostro mensile inverso ma abbiamo quello per la chiusura del t più 3 inverso? tre cicli inferiori ribassisti ho t più 3 ovvero trimestrale inverso t più 3 meno 3 uguale t ci serve un settimanale di inverso ribassista per avere un settimanale pieno pieno il target da raggiungere è questo 1384,41 quindi se andremo qui sopra avremo il nostro settimanale che può chiudere di inverso settimanale inverso ribassista che può chiudere tutto il trimestrale inverso creandone la condizione necessaria e sufficiente per scendere e poi potremmo andare a scendere appunto qui primo movimento a salire e poi potenziale discesa questo è lo schema con cui ragionerei tra l'altro ho anche persino voglia di togliere la divergenza perché magari non verrà non le verrà dato peso ok e lascerei così il nostro grafico in questo modo avremmo una chiusura di trimestrale inverso chiusura sia con una salita e poi potrebbe partire appunto raccordi a parte tutto quello che volete fin da parte comunque partirà a un certo punto un secondo trimestrale inverso questo è ciò che possiamo aspettarci tra l'altro abbiamo anche qui sulle criptovalute è diverso rispetto agli indici abbiamo un mensile ribassista che ha la possibilità di andare a pareggiare i massimi prima di andare a scendere sulla sua ultima parte una roba che sugli indici non non si vede molto d'accordo? ma qui abbiamo un mensile tutto vincolato ribasso questo è un vincolo molto importante potremmo avere un vincolo differente potrebbe essere partito da qui un mensile? no da qui un mensile? no da qui un mensile? e no perché siamo a 47 barre o ci hanno infilato un raccordo qui e sappiamo che tipo di raccordo si può infilare tra un mensile e un mensile perché di nuovo sono le regole tra un t più 2 e un t più 2 e un t meno 1 da 4 giorni da 3 giorni al minimo qui potrebbe esserci ma io rimanerei sulla strada normale quella più semplice senza per ora badare i raccordi ovvero salita per chiusura dell'inverso per chiusura del trimestrale inverso del t più 3 inverso partito insieme all'annuale inverso t più 5 inverso e poi discesa per il vincolo che si crea su questo mensile inverso target minimo questo come detto può fare anche di più minimo questo massimo a 1384,41 e poi discesa come minimo sotto questo minimo a 1220 fantastico se si arrivasse sotto i 1190 come vedete tra l'altro la situazione è estremamente diversa rispetto a quella su bitcoin se andiamo a prendere il nostro bitcoin a un giorno e qui qui abbiamo già un mensile molto più lungo da 37 che ha già soddisfatto il suo vincolo il ribasso ieri 36 giorni più un giorno meglio scriverlo così 36 più 1 e che da qui sta facendo partire potenzialmente qualche cosa di nuovo ma partirà perché anche in questo caso bisogna soddisfare la chiusura di questo inverso che ha 61 giorni e che a questo punto è un trimestrale andatele sempre a vedere qui che tipo di ciclo sono abbiamo qui la condizione necessaria e sufficiente non mi fate dire tutto ok? rimaniamo con il programma dato che si semplifica in questo modo d'accordo? vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata e uno splendido pranzo arrivederci a tutti grazie 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 grazie